salve a tutti salve salve benvenuti dunque come i più furbi avranno notato questo non è il solito genere di gioco che registro questo è un altro gioco questo si chiama crusader king 2 è un gioco gestionale medievale della paradox dunque che genere ho deciso di fare questo cioè non sarà un gameplay perché il gameplay di questo gioco diciamo è un po' statico e adesso vi spiegherò perché questo gioco a differenza di rom è molto più gestionale molto più complicato ma è un po più cioè a me si può dire cioè non è per tutti perché esempio non ci sono le battaglie ecco c'è meno azione diciamo ecco quindi un gameplay potrebbe essere abbastanza noioso diciamo così io almeno secondo me tuttavia siccome il gioco è abbastanza diciamo ardo impegnativo ho deciso di fare qualche piccola guida per aiutare chi vuole chi magari potrebbe volare a giocarci io il gioco lo consiglio veramente perché è uno dei migliori gestionali a cui ho mai giocato però come ripeto non è per tutti è un gioco che diciamo si è molto pignolo dunque iniziamo dicendo che il gioco è in inglese perché la paradox odia gli italiani quindi non fa mai giochi in italiano e esiste una mod del sito biop italia che una fatta molto bene che lo traduce in italiano tuttavia c'è da dire che io lo gioco in inglese 1 perché basso l'inglese alla fine si capisce poi un ripassino fa male 2 purtroppo se si installano le mod che è la traduzione considera mod non si possono prendere gli achievement e io vado matto per gli achievement quindi finita questa introduzione direi di iniziare questo è il primo video sarà un'introduzione in generale al gioco e soprattutto al sistema feudale che diciamo è lo scheletro del gioco cioè tutto si basa sul sistema feudale dunque praticamente noi ci verrà chiesto di impersonare un di un personaggio che sarà a seconda potrebbe essere che avrà un titolo iniziale potrebbe essere un conte un duca anzi iniziamo bene prima viene scelto il periodo di partenza io suggerisco per i principianti l'altro a questi due ecco quel l'età di carlo magno l'età vichinga sono disponibili solamente con i dlc questi altri tre invece sono disponibili fin da subito e io vi consiglio l'inizio dell'alto medioevo cioè mi pare che è poco dopo la conquista si di guglielmo conquistatore l'inghilterra questi sono i sovrani che vengono proposti sono tutti i re imperatori tuttavia per i principianti io propongo di iniziare un qualcosa di più leggero quindi clicchiamo su custom gain setup e abbiamo la mappa all'uropa questa è la configurazione terreno noi scegliamo la configurazione traiamo indipendenti eccoli qui che vuol dire indipendenti vuol dire che non sei vassalo di nessuno per esempio clicchiamo questo è il re di francia e non è il re di francia il sacro umano impero e poi abbiamo l'inghilterra scozia per fare un esempio questi sono tutti indipendenti se invece clicchiamo su conti ci mostra tutti i conti cioè le contee l'ordine ecco andiamo per ordine tuttavia non non sono indipendenti per esempio questo conte che è questo qui il conte gherin è vassallo del re di francia quindi iniziamo che abbiamo un diciamo si dice un predatario ecco siamo vassalli non siamo indipendenti io propongo ai principianti di iniziare con paesi non troppo grandi e indipendenti quindi l'irlanda è l'ideale l'irlanda praticamente che non è ancora formata in quest'epoca è composta una marea di conti e di ducati indipendenti l'ordine ve lo dico subito dal basso verso l'alto è conte duca re e imperatore almeno quelli giocabili ovviamente e qui abbiamo in irlanda la maggior parte sono tutte contee oppure ducati ecco quando il bordo è blu a parte c'è scritto quando il bordo è blu vuol dire che da queste strisce blu vuol dire che è un duca in irlanda i duchi vengono chiamati comunque re ecco si è un po complicato però ve ne accorgete quando è re perché il re insomma il re ecco ha la coroncina al circolo giallo e soprattutto ha la corona comunque vi consiglio di iniziare con l'irlanda una con te iniziale molto interessante è quella di dublino quella di dublino che inizi che sia il conte di dublino che il conte chiamato l'erl sì che ha una singola città e non diciamo non è indipendente quindi consiglio questo inizio dunque io gioco sempre a modalità iron man che vuol dire iron man uno si possono prendere gli aciment e due praticamente non è possibile tornare indietro sui propri salvataggi ecco se succede un evento non si può tornare indietro ecco quindi via di iniziare se vi interessa c'è anche la mappa delle religioni e in quest'epoca ovviamente il cattolicesimo regna incontrastato in europa al sud abbiamo invece sunniti e sciti nel profondo nell'africa profonda c'è ancora qualche ceppo vagano in abissinia e via abbiamo un po il miafismo il tengrismo portato dai cati e sì insomma dai mongoli questi qua mentre nel nord c'è c'è ancora qualche ceppo vagano germanico e il paganesimo animalista dei finni dei finnici il suo mensco a ovviamente costantinopoli ortodossa ma comunque parleremo un po avanti dalla regione adesso parliamo in generale sistema futale come funziona dunque iniziamo oggi faremo il sistema futale più grande se sia un conte cosa comporta essere un conte che diciamo la cosa più semplice quindi iniziamo si crea un nuovo salvataggio e si inizia la partita si vuole un pochino perché le caricate tutto ok siamo dentro dunque inizio dicendovi che il gioco non è a turni è in contemporanea in tempo reale praticamente il tema del gioco scorre sempre che abbiamo la data è possibile fermarla o farla andare a una certa velocità come vedete i giorni passano 16 settembre e così via questa è la schermata del nostro personaggio eccolo qui qui ha la sua moglie qui ha il suo erede che in questo caso è il figlio e qui c'è la sua famiglia genitori nonni e figli e siblings se pensi sia non mi pare insomma altri quindi magari fratelli e fratelli e sorelle ma abbiamo il fratello dunque per iniziare iniziamo con come si può dire da questa schermata per esempio questa è l'ambizione e l'ambizione cosa vuol dire ma te ecco qui in alto ci sono diciamo le schermate di attenzione avvertimento per esempio il primo avvertimento non è una selezione un'ambizione l'ambizione praticamente eccole le elencote quelle disponibili e come dice appunto il nome diciamo noi andiamo a diventare qualcosa per esempio queste sono le statistiche del personaggio ossia diplomazia marzialità come si può dire si marzialità guerra ecco economia diciamo intrigo e learning si possiamo conoscenza così dunque praticamente noi selezionando una di queste diciamo il personaggio si impegnerà a realizzarla ad esempio una delle potrebbe essere per esempio accumulare soldi accumulare vestigio oppure aumentare una delle proprie discipline che è disponibile se si è sotto 8 dato che abbiamo zero learning io propongo questa improv learning quindi arriveranno facendo scorrere il tempo saranno degli eventi che permetteranno diciamo di aumentare il proprio learning come vedremo avanti un'altra cosa importante è questa il nostro re del figlio non è sposato e infatti non ha la moglie dato che è il nostro è il nostro figlio possiamo farlo sposare e qui c'è l'elenco di tutte le diciamo le principesse no di tutte le spose disponibili cliccando con il sinistro no scusate cliccando torniamo sul figlio con il destro è possibile vedere diciamo ecco i vantaggi se sposiamo questo se sposiamo la principessa dell'ungaria unghiera ha 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 il nostro figlio guadagnerà 56 onore eh no scusa guadagnerà 56 per la casata e 200 perché è parente di un re quindi io farei così la sposerei quindi ecco facciamo scorrere il tempo ci vuole avere solo qualche giorno in questo caso si può anche aumentare se non si ha pazienza attenzione è successo un evento mentre aspettavamo ecco gli eventi possono succedere praticamente con lo scorso del tempo e dipendono certi fattori ovviamente possono essere casuali esempio che succede beh qui per esempio ecco dice che il nostro figlio quello più giovane se dedica molto tempo alla preghiera quindi si può decidere se farlo diventare monaco oppure dirgli di no però se diventa monaco diciamo è un buon tratto perché eh guadagna della pietà che è un fattore che serve per la religione ci diciamo no invece eh diventa stress a parte che diminuisce di 25 il suo rapport diciamo gli stiamo meno simpatici ecco 25 vuol dire che da 1 a 100 il rapporto che tra noi diminuisce diventa stressato che comporta gravi malus quindi si facciamo diventare monaco che non è male noi intanto abbiamo mandato la richiesta al re dell'ungheria di sposare la figlia eccola qui la figlia che andrà sposa al nostro figlio quindi possiamo decidere se diciamo come si dice dare la dote 7 d'oro no scusate prendere la dote 7 d'oro oppure rifiutarla in questo caso guadagneremo 50 prestigio che non sono pochi 7 d'oro non sono tanti ma i soldi sono parecchi quindi facciamo così ok quindi ecco il problema è stato risolto il nostro figlio è sposato eccola qui dunque adesso devo parlare del sistema frutale il sistema frutale come sempre è un puro sistema frutale ossia da ne si può dire ognuno ha un vassallo uno sopra uno sotto ok noi è vero che siamo conti al momento indipendenti quindi non abbiamo nessuno noi siamo in cima alla cosa tuttavia quindi se possediamo una contera la contera è praticamente un pezzo di mappa in questo caso possediamo solo Dublino tuttavia vediamo che Dublino come la maggior parte delle città europee ha un castello una città e una diocesi quindi il conte che in questo caso sarei io possiede il castello ecco il mio castello con tutti gli edifici relativi costi per potenziarlo tuttavia la diocesi e la città non sono ovviamente mie sono dei miei vassalli ossia del come si chiama del sindaco e del vescovo infatti noi qui abbiamo l'elenco dei nostri vassalli e indovinate un po' abbiamo il sindaco sindaco Dublino e il vescovo quindi e qui abbiamo i soldi i soldi che il vassallo ci dà quindi noi i soldi come li prendiamo? li prendiamo uno agli edifici del castello che non ne genera moltissimi diciamo ecco questi edifici per esempio Castle World forse serve a aumentare le tasse infatti noi guadagniamo eccolo 1,82 al mese diciamo noi gli edifici li prendiamo sia dal nostro castello che dai come si può dire dai vassalli in questo caso per esempio il sindaco ci dà 7.4 dunque quali sono le condizioni per prendere i soldi dei vassalli? dobbiamo stare simbatici noi abbiamo un renda 5 con il di ovignone no, lui ha 35 verso di noi e non è tantissimo ma non è neanche poco quindi va bene tuttavia vediamo che il vescovo non ci dà una lira perchè? perchè il vescovo c'è la dottura di cazzo il vescovo oltre a stargli simpatico ossia a non stare sotto lo zero dobbiamo anche essergli più simpatici del papa infatti accanto c'è la l'opinione che il vescovo ha del papa noi abbiamo 35 e del papa ne ha 89 quindi i vescovi hanno sempre un amore sfrenato per il papa quindi ecco è molto difficile prendere i soldi dai vescovi comunque sia sì ecco noi diciamo prendiamo i soldi appunto ecco come funziona almeno per i sindaci e per i vescovi il castello è nostro, ok possiamo fondare altre città però ovviamente costa un prezzo e decidere noi se sarà un castello, un tempio, una città dunque in quel caso potremmo tenercelo a noi o potremmo darlo a un nuovo vassallo che ci lo crea lui dipende dalla situazione diciamo quindi ecco diciamo questo è il sistema frutale base ossia conte che parte con una dioresi e una città che sono suoi vassalli allora, altra piccola indicazione diciamo indicazione noi vediamo che, vabbè adesso non possiamo costruire perchè non abbiamo né i soldi né la tecnologia necessaria quindi noi possiamo ampliare i nostri edifici del castello dunque sebbene le città la città e la dioceci siano del vescovo e del sindaco noi possiamo potenziare gli edifici del vescovo anche qui non abbiamo i soldi quindi niente tuttavia io lo sconsiglio vivamente io sconsiglio sempre di potenziare gli edifici dei vassalli perchè? uno sono edifici loro se li potenziassero loro succede dipende da loro molto spesso però diciamo che si li potenziano due si magari li potenzia il vescovo gli potenzio per esempio che ne so questo edificio che aumenta i soldi e poi il vescovo non aumenta i soldi e allora cioè si vorrei potenziarlo al sindaco però insomma con gli edifici costa io consiglio di concentrarsi sul proprio castello ecco qua scusate un mangiato pesante dunque diciamo per diciamo definiamo questo questo è diciamo il feudalesimo base si con te a dire aver detto tutto beh magari diciamo anche un'altra piccola cosa ecco dunque i vassalli oltre a per i soldi servono anche per un'altra cosa servono per le ruppe nel pannello militare vediamo le ruppe che ci che nostre e le ruppe che ci forniscono i vassalli noi il castello ci genera 1037 ruppe di come si di quante ruppe ci da il castello vedremo nei seguenti video mentre i vassalli ci generano 75 sono tanto poche perché il vescovo ovviamente ha più simbatico il pava quindi non ci da truppe mentre la città non genera mai tante truppe e comunque sia i vassalli non ti danno mai tutti tutti i loro soldi cioè tutti scusate non ti danno mai tutte le loro truppe teneranno sempre una percentuale che dipende anche da quando tu gli sei simpatico quindi ecco il vizindaco ci non ci da molto ci ha solamente 75 truppe cliccando qui per esempio ecco ecco abbiamo evocato le nostre truppe 1037 e cliccando qui abbiamo aggiunto e sono 1112 e sono due eserciti io faccio sempre così e le unisco ecco qui e queste sono le nostre truppe ovviamente vabbè come vedremo più avanti mantenere truppe costa però vi dico che più tempo le truppe dei vassalli rimangono evocate cioè vi chiamiamo la raccolta più si incazzano quindi devo un po' mai restituirle in questo caso ne chiudiamo subito ecco qua ah stessa cosa ovviamente vale per le navi quelle erano le truppe ecco abbiamo le navi noi giriamo 17 dal porto del castello e il sindaco ce ne può donare 4 wow sei sprecato e quindi sì i vassalli a che servono? servono a darci soldi e denaro eh bravo è un sinonimo soldi e truppe perfetto quindi diciamo per il frutalesimo di base direi di finire qui con Thea nel prossimo video vi farò vedere cosa comporta essere un duca ma diciamo che il meccanismo è il super giulo stesso però io ve lo illustro comunque direi che per il momento questa beh oddio sì per il momento vi ho spiegato come funziona il sistema frutale nel prossimo video vi spiegherò diciamo cosa comporta magari o farò il video come cosa comporta essere un duca o magari vi spiegherò i dati del personaggio ecco vediamo un po' alla prossima probabilmente molto presto ciao ciao